Credo lei sa chi ha bisogno. Pensavo fosse morto. Dottaggi di massa, DNA, virus parte. Sarai morto tra una settimana. Mulder. Skelly. Mulder, devi andare. Non vado da nessuna parte. Devi trovare l'uomo che fuma. Adesso vado a chiamare un dottore. No, ascoltami. L'ho visto. Hai visto cosa, Skelly? So come comincia. C'è un virus. Si chiama Spartan. Distrugge il sistema immunitario e provoca una pandemia. Hai avuto una crisi. Hai un'attività cerebrale estremamente anomala. No, c'è un contagio globale. Ma esiste una cura. Mulder, ne sono assolutamente certa. Ok. Dimmi che cosa hai visto. Tu stai morendo. E non posso salvarti. Non senza le cellule staminali di nostro figlio. Skelly, io sto bene. Sono qui. Non c'è nessuna epidemia. Non devi salvarmi da niente. C'è l'uomo che fuma dietro a tutto questo. L'uomo che fuma è morto da anni. No, non lo è. È vivo. Ed è a Spartanburg, Carolina del Sud, Mulder. È da lì che scatena l'inferno sulla terra. Skelly, non dubito di te. Non è che tu creda a quello che hai visto. I medici dicono che il tuo cervello è in fiamme. Sono sempre io, Mulder. Non sono una persona irrazionale. Tu devi trovarlo. E devi fermarlo. Prima che ti uccida. Vado prima a cercare un medico. Ok? Ok. 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 Dov'è il ragazzo? Voglio sapere... Dov'è il ragazzo? No. No. Dov'è il ragazzo? Ok. Ok. Ok.